manca pochissimo roberto la corte il patron della regata manca pochissimo quest'ennesima edizione nuovo record 218 barche cosa dire cioè tutto molto bello anche il tempo alta pressione e non ci sarà poco vento ma ci sarà il vento giusto e tu insomma sei lì in prima fila beh io ho fatto dovrebbe andare in mare a regatare la nostra regata partite già con il record di iscritti però stavolta forse si parla di un record un po più importante quindi il vento le condizioni meteo potrebbero darci la possibilità di abbattere il record dei 16 ore qualche minuto perché probabilmente avremo una condizione costante di vento medio e quindi divertente fondamentalmente per tutti gli equipaggi senti allora questa è una regata che è diventata veramente un must non solo per i numeri anche proprio per la considerazione l'abbiamo visto anche nel clima che si respira al briefing le stesse domande la partecipazione degli equipaggi è veramente come se fosse una famiglia secondo me no la 151 miglia come siete riusciti a fare questa questo obiettivo e fabio proprio questa è la cosa più bella più che ti dà più soddisfazione e sentire le persone vederle felici e sentirle parlare della 151 miglia e questo è il feedback più importante che dobbiamo utilizzare per le prossime edizioni cosa abbiamo fatto niente di più che usare la nostra esperienza da regatanti perché chi organizza 151 miglia sono fondamentalmente regatanti quindi usare l'esperienza regatante per andare a soddisfare quello che un regatante vorrebbe da una regata da un evento e quindi garantirgli una bella regata quindi un bel momento sportivo ma anche divertirsi in terra con tutti gli eventi che sono sempre intorno a momento al gesto sportivo più importante che la regata senti lo sanno tutti tu sei anche un corridore automobilistico corri sulle macchine allora adesso ti faccio una domanda analogie e differenze di una 151 miglia e una 24 ore di le manche più o meno come tempi ci siamo quasi quasi e se per caso magari tu quando sei al timone ti sbagli un attimo sei sopra pensiero alle due o le tre di notte e magari incroci le due cose ci sono tantissime similitudini perché io corro come hai detto la 24 ore le man quindi sono gare endurance dove la componente equipaggio la componente del gruppo è fondamentale in barca si fa la regata alla differenza lo fanno tutti tutti quindi tutti contribuiscono al risultato nelle gare endurance non solamente i piloti lavorano per il risultato ma tutte le persone che sono intorno alla vettura ingegneri lo stratega i meccanici quindi analogie tantissime se mi confondo no diciamo che diciamo che la il motosport questa è una cosa vera il motosport mi ha aiutato ad essere più performante al timone questo lo posso dire perché c'è una ti aiuta a essere molto più focalizzato nei momenti importanti e nelle gesti importanti che sono dedicati a far andare forte la barca io sto al timone di super nicca quindi molto importante essere concentrato su quello che faccio e affidarmi all'equipaggio come vedi l'analogia si ripete all'equipaggio che dà il meglio